Perfetto, bella ragazzi Allora ragazzi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Time Shift Dobbiamo scappare da qua Aia Porca troia È morto da solo Aspetta che c'è uno Cazzo no, c'è la robot Dov'è? Qua dentro? Fanculo Eh vabbè Oh, da qua Ok, ok Occhio Occhio che qua c'è un robot Qua uscirà un robot Quindi attenzione Sì 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 Io li lascio fare Eh ti piacerebbe Occhio Occhio che ne esci un altro qua adesso Occhio Occhio che ne esci un altro qua Occhio che ne esci un altro qua Occhio che ne esci un altro qua Sta esplodendo tutto qua Occhio Occhio No Minaccia Elicottero Uno Due Tre Cazzo 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 Dai prendilo Dai prendilo Cazzo Eh sì sì Sparami pure Fanculo Fanculo E' in fin di vita eh Proprio Ma Io so solo che sto sprecando tutte le munizioni comunque Eh vaga puttana Uno Uno Due Tre Quattro Perché c'è qualcosa qua? Eh Perché serve? Uno Due Tre Ma dai non c'è non esplode che cazzo? Ma queste sono armi pesanti scusa eh Alleluia Alleluia Se un colpo Un colpo eh Un colpo eh Un colpo eh mi sa che non andremo più avanti eh ridammi la palestra oh munizioni aspetta ok ah ma adesso ho già trovati eh le munizioni vaffanculo macca puttana cioè adesso eh si si no 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 li ho mica viste eh c'è c'è tipo la cassa di munizioni ca boia che ca ma certo Earth Yeah Nam E Euh Ah I I I I I qua nazzo fanculo a quello con il frizzino bam si si quello è volato via questa è mia vaffanculo porca troia dov'è che mi stanno sparando oh è qui eh ah e poi quando è finito basta cioè non ce ne sono più vabbè un po' una una stronzata fine finito aspetta che cosa ho buttato no 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 questo lascialo come siete dai dovete essere in alto per forza aia non vi vedo che cazzo sono lì vicino ah eccoli caboya recupero munizioni ole ok wow qui la cosa sta diventando sempre più difficile o sbaglio va beh chiuso qua là dovremo correre più non posso oh oh là a posto più o meno ok e sali no e evacuazione immediata in che senso piccolo punto di ristoro vacca no una cosa più lenta no è lancia balistica pure eccolo là eh aspetta no no eh qua devo ricaricare un atomo perchè devo raggiungere quella zona assolutamente aspetta aia aspetta ma sta ritornando indietro ancora non è vero fermo ah ma è una volta che faccio così vabbè ma che due balle comunque a posto non cadere possibilmente no dai ah sembra fuggire la pompa no dai continuiamo con queste e dai che due balle quindi devo utilizzare un jet per fuggire dai 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 oh uh le skill occhio occhio c'è uno non so dove ma ok è morto quello si eh 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 chi è ah ok ma qua non c'è niente ah sedimento strutturale cacchio quindi attenzione qua aia aia aspetta non vedo nessuno ah no eccolo di là bam si si ma solo perché possiamo possiamo utilizzare il lanciarazzi attiva l'ascensore e sali sul jet uh forse dovremo pilotarlo può essere eh sarebbe troppo bello però fammi vedere se è possibile salire su questo coso si bene ah no allora è questo questo jet 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 più o o meno jet sali quindi però qui c'è una scala che porta ah no ok no mi sembrava una una scala tipo no tac vabbè spariamo un po' in giro il fucile la pompa se è da quella la distanza secondo te mi mi becchi andiamo no ok non può andare non si sa perché attiva l'ascensore aia uh è un attimo perché questo sta per decollare mi sa troppo lento mi sa non riesco a salire mi sono incastrato aspetta com'è c'è c'è un problema magari c'è cano di tornare indietro magari col tempo no eh oh che palle eh qua dobbiamo andare super rapidi eh aspetta che che voglio prima vedere qua porco se c'è qualcosa no niente pronti perché altrimenti questo dopo sale non possiamo più entrare sì dove siamo qua di preciso e allora prima di far questo ragazzi direi che per questo episodio di timeshift è tutto vi ricordo che se siete ancora iscritti al canale e iscrivetevi se volete mangiare aggiornando i prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi mettere un bel pollicino su e anche la vostra nei commenti noi ci risentiamo con un prossimo episodio di timeshift bella